Benvenuti a tutti, questo webinar WatchGuard di oggi tratterà la questione di rendere in sicurezza il mondo virtuale e di conseguenza il mondo cloud in quanto uno sostanzialmente è diventato conseguenza dell'altro. Prima di tutto mi permetto di fare una introduzione per quanto riguarda WatchGuard, giusto per chi non dovesse conoscere il nostro brand. WatchGuard è uno dei market leader per quanto riguarda la sicurezza perimetrale ed è un'azienda ormai con 18 anni di presenza sul mercato. Abbiamo 5 uffici regionali, uno è in Italia, presenza in 15 nazioni, le più industrializzate e un parco installato di parecchi milioni di unità in giro per il mondo. WatchGuard in Italia è presente a Roma come ufficio fisico e ha un'altra presenza a Milano con un team di 12 persone distribuite tra commerciali, tecnici e di supporto. E' molto importante che diamo supporto diretto sia agli utenti finali che ai nostri partner di canale direttamente in Italia con orari e personale italiano. In Italia vantiamo circa 12.000 clienti, lavoriamo in modo indiretto tramite VAR e distributori a valore aggiunto. VAR in Italia attivi sono circa 600, dei quali 180 sono certificati con il nostro programma di canale WatchGuard One. La nostra mission è dare senso alla cyber security nella modalità di portare una protezione intelligente ad una fascia di mercato che normalmente ha difficoltà a interfacciarsi con dei servizi di sicurezza complessi, quindi è importante portare questa protezione intelligente con un management e una gestione semplificata, in più dando a corredo tutti quelli che sono gli strumenti di monitoraggio reportistica gratuitamente insieme alla soluzione per poter permettere di avere una visibilità e un'analisi del rischio e delle attività fatte sul network. Noi esposiamo il concetto dell'UTM, quindi dell'Unified Trade Management, un dispositivo il quale integra il più possibile servizi di sicurezza configurabili solo la prima volta e gestiti centralmente. I servizi di sicurezza che WatchGuard mette a disposizione sono in due fasce, i servizi di sicurezza fondamentali di base che sostanzialmente sono facilmente registrabili e trovabili in qualunque altro firewall di UTM come servizi di intrusion prevention, spam filtering, getting antivirus, web filtering e controllo delle applicazioni con una serie di servizi più avanzati atti a prevenire l'arrivo di minacce avanzate non rilevabili con gli strumenti basati su firme statiche come appunto antivirus e IPS. Quindi blocco delle minacce avanzate APT, tree detection response per la protezione dell'endpoint con lost ransomware prevention che va a bloccare immediatamente i processi ransomware direttamente sull'endpoint prima che facciano danni, la data loss prevention per evitare l'uscita di dati riservati dalla rete e network discovery per l'enumerazione della rete e la sicurezza IoT in più dimension command per la gestione remota delle macchine WatchGuard Una piattaforma con sicurezza totale Cosa noi offriamo? Innanzitutto una piattaforma hardware dal più piccolo dispositivo fino al più grande dispositivo tutti con lo stesso software, lo stesso firmware, la stessa modalità di funzionamento facili da installare e da gestire con un rapporto prezzo-prestazioni incredibilmente vantaggioso a questo si affianca una generazione di access point direttamente gestibili dai firewall gratuitamente grazie al wireless controller integrato nei firewall oppure dal cloud con anche aggiunta di funzionalità molto importante come il wireless intrusion prevention system A questa generazione di prodotti hardware c'è un'intera generazione equivalente dal punto di vista delle funzionalità per quanto riguarda il mondo virtuale e il mondo cloud Offriamo le macchine in due modalità o comunque la nostra tecnologia VUI hardware, VUI software in due modalità di suite di sicurezza uno è chiamato Total Security e uno Basic Security Basic Security include tutti i servizi di sicurezza di base atti a bloccare, a gestire tutto quanto sono le minacce note e conosciute fare web filtering, antivirus, application control e così via ma se vogliamo avere la sicurezza completa la capacità del blocco anche delle minacce sconosciute degli zero day per dire con una parola unica bisogna passare a avere assolutamente la Total Security la quale integra i servizi di sicurezza più avanzati Parliamo di GDPR per l'ultima volta perché penso che molti ormai ne hanno un po' l'anima piena di quanto riguarda il GDPR ma è molto importante come WatchGuard con i suoi prodotti risponda a 16 dei 20 controlli critici secondo il SANS Institute propedeutici al GDPR quindi integrando all'interno della rete di un cliente una macchina WatchGuard con la Total Security abbiamo la possibilità di rispondere a praticamente tutto quanto riguarda le richieste sulla sicurezza perimetrale Ultimo, WatchGuard è un prodotto aperto si integra ora con tantissimi partner che fanno i più diversi tipi di software integrabili con un firewall quindi se va da applicazioni cloud piuttosto che autenticazione monitor remoto, CM all'interno della nostra area partner troverete la directory tech partners dove all'interno ci sono tutte le guide di integrazione con vendor di terze parti e man mano che passa il tempo crescono sempre di più WatchGuard è un prodotto riconosciuto dall'industria come un prodotto di alto livello un prodotto con una sicurezza estremamente importante e con una semplicità di utilizzo molto 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 estesa questo comporta il fatto di avere dei clienti molto orizzontali non abbiamo un verticale di riferimento ma abbiamo clienti che vanno da tantissima PMI in Italia perché ovviamente il 99.6% delle aziende italiane ha meno di 50 dipendenti ma ciò non toglie che serviamo anche clienti di alto livello mid enterprise e enterprise che trovano nella soluzione WatchGuard una soluzione con un budget non eccessivo ai loro problemi di sicurezza bene, passata questa parte introduttiva sul nostro brand andiamo ad analizzare quello che vuol dire rendere sicuro un mondo virtuale e il mondo cloud facciamo un passone indietro gli albori erano sostanzialmente dove io avevo una singola applicazione che girava su un hardware proprietario stiamo parlando di tanti 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 anni fa poi questa cosa si è evoluta nell'introduzione di un sistema operativo il quale disgiunge l'hardware dal software e quindi io posso fare girare un'applicazione su diverse macchine non legate ad uno specifico hardware dopodiché si è arrivato ad avere la possibilità di multitasking quindi avere più applicazioni e più programmi che girano sullo stesso hardware dopodiché è arrivata la virtualizzazione nella virtualizzazione su un singolo hardware io posso andare a fare girare più computer virtuali quindi simulati gestiti da uno strato software che si chiama Hypervisor il quale gestisce appunto queste macchine come se fossero dei computer completamente separati ma queste macchine vanno a condividere una singola risorsa hardware l'ultimo step è che questo sistema di virtualizzazione è stato inserito in remoto quindi non ho più la necessità di avere on premises i server e tutto quanto comporta per il loro funzionamento e la loro configurazione ma semplicemente compero dello spazio non so dove da qualche parte in giro nel mondo e all'interno metterò le mie applicazioni e a queste accederò da remoto la virtualizzazione e il cloud portano degli incredibili risparmi portano dei risparmi per quanto riguarda ovviamente la necessità la non necessità di avere dello spazio di storage per quanto riguarda le mie macchine non ho bisogno di un data center risparmio nella corrente elettrica risparmio nella corrente elettrica per la refrigerazione risparmio anche in personale dedicato perché vado sostanzialmente a delegare ad un provider quello che è la gestione delle mie macchine virtuali e consente la cosiddetta business agility se pensiamo a fare un provisioning di un server tradizionale on premises ci vogliono alti costi e dei giorni fare un provisioning di un virtual server nel cloud ci metto minuti basta fare 3 o 4 click e il mio server è pronto funzionante e posso iniziare a usarlo che cosa frena l'adozione della virtualizzazione e del cloud sostanzialmente due principali domande la prima è su problemi di sicurezza e la seconda sulla compliance alle questioni della privacy soprattutto ora nell'era del GDPR dove il dato di un europeo non può uscire dalla comunità europea quindi il provider cloud deve garantire che la mia macchina e i miei dati siano all'interno della comunità europea tutto quello che sappiamo sulla network security però va rimesso in discussione quindi eravamo abituati ad avere una singola macchina con più applicativi che girano in un singolo dominio possiamo facilmente andare a fare sicurezza perché tutto quello che attraversa un filo può essere ispezionato al volo quindi io metto un firewall di mezzo e tutte le connessioni da una parte o dall'altra io posso verificare verificare i dati e così via peccato che nel mondo cloud questo è sbagliato perché noi disponiamo di una nuvoletta nella quale all'interno gira la nostra macchina virtuale dove tra una macchina virtuale e l'altra possono essere scambiati dei dati e a questo punto io come faccio a rendere sicuro questa nuvoletta? mi devo fidare di quello che mi dice il provider che mi fornisce il cloud privato e come accedo al cloud privato? accedo tramite l'internet pubblico quindi una rete virtualmente insicura e a questo internet pubblico ovviamente collegherò con un router la rete della mia azienda la quale accederà a questo cloud privato le varie applicazioni e i vari dati ma non solo abbiamo anche il BIOD quindi tutti gli strumenti mobili telefoni, tablet e così via che con una connessione da qualsiasi parte con un provider telefonico accedono a internet e possono accedere al nostro cloud privato nel cloud poi abbiamo il modello della responsabilità condivisa il cliente è responsabile per quanto riguarda quanto ci sia nel cloud il provider del cloud sembra una piccola differenza ma è sostanziale quindi io tutto quanto metto dentro la nuvoletta sono problemi miei per non dire altre parole compresa anche configurazione del networking del firewall le piattaforme, le applicazioni identità, accesso, management e così via per quanto riguarda invece il provider mi garantisce che la nuvoletta funziona sostanzialmente quindi tutta la parte di networking computing, storage, database all'interno nella quale poi questa nuvola funziona il provider me la garantisce quindi è un problema mio andarmi a garantire che i dati miei all'interno siano integri ci sono sostanzialmente due modalità la prima modalità concorrente è quella di installare all'interno delle macchine virtuali dei firewall virtuali WatchGar mette a disposizione una generazione di firewall virtuali che sono chiamati Firebox B i quali vanno a installarsi all'interno delle macchine virtuali come una macchina virtuale a sé stante questo Firebox B si va a collegare al Virtual Switch e questo consente di andare a proteggere i multitenance quindi proteggere le macchine virtuali una dall'altra filtrando il traffico Firebox B è rilasciato e supportato per Microsoft Hyper-V e per VMware SXI è molto importante un altro concetto che il Firebox B agisce come macchina virtuale a sé stante non è integrato nell'ipervisor questo comporta il fatto che qualunque tipo di problema può essere facilmente risolto facendo riavviare la macchina virtuale firewall oppure tra le altre cose supportiamo tutto quello che sono i tool dei VMware o di Micro-V, V-Motion e così via per la duplicazione delle macchine virtuali per quanto riguarda il cloud il concetto è simile ma va strutturato in modo diverso abbiamo una versione di Firebox che si chiama appunto Firebox Cloud il quale può essere fatto del quale può essere fatto il deploy direttamente all'interno del cloud virtuale scusatemi del cloud privato di Microsoft Azure o di Amazon Web Service AWS quindi io faccio il deploy del firewall questo mi fa da protezione perimetrale della mia nuvola privata nella mia azienda potrò installare un qualsiasi firewall possibilmente WatchGuard e connettermi quindi alla mia nuvola privata tramite un tunnel criptato in IPsec questo consente di avere traffico completamente criptato end to end dalla mia rete fino al provider in maniera sicura tramite le VPN tramite il public internet io potrò accedere anche ai vari servizi SaaS tipo Salesforce piuttosto che Office 365 e così via sempre tramite il mio firewall è importante come a breve lanceremo un sistema di autenticazione multifattore che si chiamerà Outpoint il quale mi consentirà anche di accedere a servizi SaaS e applicazioni web con autenticazione multifattore basata su token virtuali mandati sui cellulari questo mi risolve anche il problema della debolezza poi delle password come viene licenziate le macchine i Firebox V e i Firebox Cloud con i Firebox V io ho quattro licenze che posso comprare e alle quali verrà poi associato un numero limitato di risorse virtuali quindi numero di CPU piuttosto che quantità di RAM questo per dare un taglio di tipo commerciale a un prodotto che avrebbe le sue capacità e le sue potenzialità unicamente dovute alla capacità hardware dove l'ho installato quindi quattro versioni small, medium, large, x, large rilasciate come immagine per creare una macchina virtuale aggiuntiva per quanto riguarda il Firebox Cloud è molto simile il concetto vale a dire i modelli si basano sul massimo numero di Azure CPU Cores e Amazon AWS vCPU che è l'equivalente che gli apparati utilizzeranno se si usa più di un apparato userà solo quelli massimali della nuvoletta che mi è stata data a disposizione quindi anche qua quattro tagli small, medium, large, x, large a seconda della quantità di traffico che voglio gestire sul mio cloud privato andiamo adesso ad analizzare quali sono le funzionalità e i benefici di avere Firebox Cloud per quanto riguarda appunto Amazon Web Service e Azure innanzitutto la protezione diretta degli AWS Virtual Parable Cloud i VPC e dei Marfito Azure VNet dagli attacchi come Bootnet CrossScript Scripting SQL Connection e tutti gli altri vettori di intrusione che normalmente cercano di introdursi in qualsiasi perimetro attivazione e connessione delle VPN proprio come estensione dell'appropriazione dal proprio punto AWS oppure Microsoft direttamente alla mia rete quindi si possono usare le branch office VPN le mobile VPN per quanto riguarda il BIOD si può creare un access portal quindi pubblicare su un access portal gestito dal firewall le mie applicazioni web che ad esempio risiedono all'interno del cloud privato o delle applicazioni web che sono residenti dentro il SaaS che sto utilizzando tutto quanto è compatibile con Dimension sia per il login che per il reporting quindi il nostro software di visualizzazione di gestione e di reportistica integrato con i prodotti WatchGuard esistono poi due modalità diverse di acquisto delle licenze per quanto riguarda AWS e Azure mentre con AWS e Azure io posso comprare il cosiddetto bring your own license quindi io compro la licenza in modo classico da WatchGuard l'attivo sul portale WatchGuard dove bisognerà inserire una serie di dati che il provider mi rilascerà come la AWS instance ID o l'Azure instance ID si otterrà la feature key che attiverà i vari servizi di sicurezza ed funziona come un classico firewall WatchGuard o hardware o virtuale con AWS ho poi una possibilità in più ho la possibilità di comprare direttamente da AWS e il nostro firewall è legato nella sottoscrizione Amazon che verrà integrata all'interno del VPC che comprerò questa è una sottoscrizione che non è a soggetto a scadenza fissa non c'è necessità della feature key di WatchGuard ma si pagherà direttamente il canone ad Amazon la web interface per il Firebox Cloud è molto simile alle altre piattaforme Firebox ci sono delle feature di networking non completamente supportate perché sono gestite direttamente dal cloud service ma è una dal tipo di vista dell'interfaccia è assolutamente identica abbiamo un front panel nel quale avrò come informazione in più l'istanza AWS e quindi avrò la consapevolezza che la mia Firebox sta funzionando nell'istanza giusta e innanzitutto in quale zona come vedremo dopo AWS è divisa in diverse zone ovviamente per il GDPR mi verrà segnato una zona europea Dimension è assolutamente funzionante è integrato con Firebox Cloud e Firebox V con Dimension io ho un software a questo punto virtuale che potrò inserire già direttamente all'interno delle mie macchine virtuali inserite dentro dentro il mio cloud privato il quale mi dà tutta una serie di informazioni e descrizioni a livello tabellare e grafico di come il mio network sta funzionando e dei livelli di sicurezza che sto utilizzando e se sono adeguati una reale propria analisi del rischio Dimension si basa su tantissime pagine grafiche dove io ho tutta una serie di informazioni ad esempio di traffico rispetto agli utenti rispetto ai domini alle categorie url alle destinazioni informazioni riguardo alla quantità di traffico per utente per destinazione per dominio per applicazioni quindi in questo caso questa griglia tabellare più la tabella grande più significa che quel particolare utente o servizio sta creando traffico cliccandoci sopra tutto il dettaglio ho informazioni riguardo al log quindi il classico log del firewall o dei firewall in formato tabellare esportabile e così via informazioni è molto bello riguardo alla mappa delle policy col policy map qui non è animato ma lo vedrete animato potete vedere il flusso del traffico tra la rete trusted verso la rete esterna quindi ad esempio dall'interno del vostro cloud verso l'esterno e viceversa dove questo traffico passa su quale policy va a impattare quali applicazioni girano all'interno di quelle policy e così via questa maniera diventa molto semplice fare delle analisi anche di liste di policy molto complesse e andare a correggere eventuali problemi che andrò a riscontrare altra cosa importante ovviamente con dimension visibility è avere la consapevolezza del rischio tramite la security dashboard che mi dà indicazione in tempo reale dei client che sono stati bloccati perché hanno creato dei problemi sulla mia rete piuttosto del malware trovato le apt bloccate cliccando sul link ho una tabella con tutte le informazioni dettagliate su cosa quel particolare malware avrebbe potuto fare all'interno della mia rete indicazioni statistiche per quanto riguarda ovviamente traffico quantità di record scannati piuttosto che intrusioni bloccate e così via altra cosa molto importante è geolocalizzazione quindi io posso sapere il traffico da dove mi sta arrivando e dove dall'interno della mia rete i miei utenti stanno navigando e posso fare dei blocchi geografici a seconda se una particolare nazione ad esempio in quel momento mi stia mandando delle minacce o non voglio che degli utenti vanno a navigare sui siti di quella particolare nazione con dimension command che è la costoletta aggiuntiva di dimension ho anche la possibilità di fare una gestione centralizzata di più firewall contemporanei geograficamente distribuiti creare e gestire vpn in modalità grafica con il sistema ad espo grafico quindi cliccando solamente su icone tirandole una sull'altra e questo è un altro aspetto molto importante vorrei concludere questa presentazione per quanto riguarda il firebox per la sicurezza del cloud andando solamente a citare in maniera chiara quali siano i vari elementi importanti nei vari ambienti cloud da tenere in considerazione cominciamo con azure azure ha delle terminologie la prima è il virtual network vnet e l'ambiente che determina appunto la rete privata virtuale il nostro cloud privato all'interno dell'infrastruttura di azure il firebox cloud e i server virtuali che esso protegge sono tutte macchine virtuali implementate in un virtual network il virtual machine image vhd è l'immagine di un virtual hard disk che contiene un'immagine di tutte le virtual machine e il firebox cloud viene appunto distribuito come un vhd che potete usare per fare il deployment di una o più istanze del firebox cloud lo storage account è un servizio cloud gestito da microsoft che fornisce appunto lo storage il firebox cloud vhd è collocato all'interno di un container nel vostro storage account resource un qualsiasi soggetto gestibile all'interno di azure ad esempio le virtual machine o le storage account altri elementi sono il resource group un insieme di risorse all'interno di azure che vengono gestite e personalizzate come un oggetto di gruppo un template è un json file che definisce le risorse e le impostazioni necessarie per sviluppare un'applicazione per sviluppare il firebox cloud è necessario compilare le impostazioni richieste e specificare le risorse richieste definite nel modello del firebox cloud quindi cosa andrò ad assegnare di risorse alla mia istanza di firebox cloud la virtual machine id è un identificatore univoco associato ad una istanza azure virtual machine e per il firebox cloud si usirà si usirà l'instance id per attivare la licenza firebox cloud attraverso il sito watchcard quindi questo è quello che vi servirà l'instance id per poter generare la feature key e attivare la vostra macchina avrà una password di default e poi potrete andarlo a cambiare e le regions e le availability zone sono molto importanti perché ovviamente azure è distribuito in varie regioni del mondo ogni regione contiene diverse availability zone bisogna specificare la region nel momento in cui sviluppo un'istanza di firebox cloud per la questione GDPR dovremo usare ovviamente la comunità europea vediamo adesso AWS Amazon Web Services l'Amazon Virtual Private Cloud il VPC è l'ambiente che determina la rete privata virtuale isolata all'interno di Amazon Cloud quindi anche qui è il vostro cloud privato il Firebox Cloud e i server virtuali che esso protegge sono tutte delle virtual machine implementabili in una VPC l'Amazon Elastic Compute Cloud SE2 è un servizio di hosting di server virtuali che fornisce la capacità computazionale scalabile all'interno dell'AWS Cloud quindi quanta potenza avete bisogno sostanzialmente le Amazon Machine Image AMI è un modello di virtual machine usato per sviluppare un server virtuale in AWS e il Firebox Cloud viene rilasciato come un punto AMI file da implementare nel vostro AWS VPC l'S2I Istance è l'associazione univica tra il servizio di Elastic Computing e il file AMI che lavora come virtual server una nuova istanza S2 determina e indica appunto le risorse di CPU storage e network associata a questa macchina il Firebox Cloud viene quindi identificato attraverso una EC2 Istance all'interno del VPC ed è quello che vi verrà richiesto altre cose importanti di AWS sono l'elastic IP address AIP che è sostanzialmente un IP pubblico statico che viene assegnato ad un'istanza EC2 inizialmente si associa l'elastic IP al virtual private cloud e successivamente viene assegnato ad un'istanza EC2 per il Firebox Cloud si considera l'elastic IP come l'IP pubblico sull'interfaccia esterna il security group è una sorta di firewall preliminare che determina in ingresso in uscita quali servizi far fruire dai verso la vostra istanza virtual private cloud ad una istanza va associata un security group anche qui abbiamo le AWS region servability zone AWS si sviluppa in 10 regioni che ovviamente sono diverse una dall'altra per locazione geografica anche qua dovete andare a scegliere se lavorate in Europa e avete record che non volete che escono dall'Europa la zona europea quindi per concludere questo webinar qual è la differenza di Walshagar in generale ma ancora più importante in un ambiente cloud e virtuale portiamo a livello enterprise di sicurezza anche ad una azienda non eccessivamente grande senza la complessità e quindi senza il costo dei servizi enterprise con una semplicità di utilizzo e di uso facile da distribuire e gestire centralmente con delle performance UTM top Walshagar da sempre riconosciuta come il vendor che ha le migliori performance quando la macchina e i servizi che girano non soffre di downgrade quando vengono attivati i vari servizi UTM visibilità delle minacce vi ho accennato e fatto vedere qualche immagine di dimension è molto importante avete a disposizione dimension per quanto riguarda la completa visita del network per prendere delle decisioni veloci e anche un'analisi forense di quanto stia succedendo e a prova di futuro Walshagar è un prodotto aperto un prodotto modulare è cambiato molto da qualche anno fa per chi conosce Walshagar ora ci integriamo con il mondo e siamo molto molto aperti all'introduzione di nuove soluzioni e di nuove funzionalità bene io questo breve webinar di mezz'ora riguardo il Firebox Cloud e il Firebox V è terminato per qualsiasi informazione ulteriore vi rilancio alla nostra email corporate italiana e ho al numero nostro verde quindi questo sarà sicuramente un punto di contatto importante vi ringrazio per questa partecipazione e vi auguro a tutti una buona giornata grazie a tutti